Grave lutto nel mondo del cinema italiano. È morta infatti proprio oggi, 2 febbraio 2022, Monica Vitti era nata a Roma il 3 novembre del 31, si è spenta oggi a Roma, la capitale d'Italia. Era una famosissima attrice, pseudonimo di Maria Luisa Cecciarelli. Ebbe grandi premi, tra cui 5 Davide Donatello, come mia attrice protagonista, un ciò attore alla carriera, un lino attore alla carriera, un orso da reggente alla Berlinale, una concia de plada a Sebastian e una candidatura al premio BAFTA BAFTA. Donna davvero straordinaria leggenda del cinema italiano, tanti film in cui le citò di grande effetto, ma soprattutto una donna di grande grande bellezza. Quando era giovane infatti era davvero molto molto affascinante. Si spegne dopo una lunga malattia a 90 anni di età, proprio a Roma, la sua città natale, le città che le diede per l'appunto i Natali e che l'ha vista oltre che nascere anche morire, o meglio. Per dire, vi ringrazio, il video termina qua, non sono state diffuse altre informazioni in più su di lei. Fatemi sapere cosa ne pensate. Monica Vitti, che tu possa riposare in pace, amen. Questo video non vuole leggere la sua privacy, né della sua famiglia, ma solo informare e basta. Ciao a tutti.